OBE Summit 2022, oggi in Fondazione Feltrinelli a Milano, un grande evento ormai della comunicazione italiana, un appuntamento annuale in cui fare il punto della situazione sullo stato dell'arte del brand entertainment con i protagonisti del mercato e tracciare le linee evolutive. Giornata interessante nella quale in realtà da un lato presentiamo i dati, i dati del mercato che ancora quest'anno vedono in forte crescita diciamo la leva di comunicazione del brand entertainment e dall'altro invece ragioniamo e ci confrontiamo su quelli che sono oggi le tendenze principali sia dal punto di vista della creatività che dell'amplificazione media che anche dei modelli organizzativi che oggi permettono di andare a creare contenuti di brand entertainment. Chiaramente questo sotto legida di OBE dell'osservatorio brand entertainment che rappresenta diciamo la principale associazione del mercato, anzi da quest'anno addirittura impresa sociale dedicata proprio allo studio, alla ricerca, alla formazione, alla divulgazione di questa leva di comunicazione sempre più rilevante in termini di impatto di business, di impatto sociale e culturale del mercato. Grazie a tutti!